Sono stati gli oltre 350 studenti delle scuole materne, elementari e medie dell'Istituto Comprensivo 4 novembre i protagonisti della nuova giornata targata a zero spreco promossa da AISA Impianti. Hanno partecipato a tanti laboratori dedicati alle varie fasce d'età, hanno fatto laboratori di avvicinamento alle tematiche del riciclo, del consumo consapevole e della riduzione dei rifiuti. Questi sono argomenti che francamente resi vicini alla loro fascia d'età suscitano l'interesse dei bambini. Tra l'iniziativa all'interno del centro di raccolta è termovalorizzatore di San Zeno come sempre la gara di cucina degli avanzi organizzata con l'aiuto di Chef Shadi. Con i prodotti dati dalla Col di Retti hanno creato quattro piatti perché erano quattro squadre diverse per due turni, hanno creato dei piatti divertenti ma cercando di recuperare tutto quello che c'era da recuperare fino all'osso proprio, quindi la buccia, la parte legata davvero alle ossa perché ci hanno fatto anche dei brodi e alla fine c'è stata la vittoria di una squadra che ovviamente è stata reputata quella che ha sprecato meno, che si è organizzata meglio e che ovviamente ha fatto il piatto più bello e più buono. I giovanissimi inoltre hanno anche visitato l'impianto di San Zeno. Sia la linea di termovalorizzazione con il recupero dell'energia che la linea del compostaggio. Ci teniamo a far vedere il modo in cui lavoriamo, a far vedere che ci sono due flussi ben separati di rifiuti e che è importante oltre a ridurre al massimo lo spreco anche fare una corretta raccolta differenziata. La giornata oltre ai laboratori dedicati ai più piccoli è dato il via anche ad un momento formativo dedicato ai professionisti del settore i quali si sono confrontati sul tema metodi valutativi delle aziende pubbliche. Abbiamo una normativa in continua evoluzione, mi riferisco al decreto Madia, il 175, è una normativa che lascia anche degli spazi abbastanza grigi e questi spazi potrebbero essere pericolosi se non studiati profondamente e gestiti con estrema attenzione. In tal senso il nostro centro di documentazione ha organizzato con l'Università Lewis questi momenti di formazione.